Siamo a Tresna, vicino a Zheviez, che sarebbe vicino a Bielskobiawa, praticamente in Polonia. Si sente il rumore del Waz? Eccoci qua nel nostro piccolo tour del mattino. Nelle perse vie di Tresna. Là c'è un campo da sci, lassù c'è un campo da sci e qua c'è anche il campo di volo, un campo di volo di vecchi aerei e alianti, nonché anche un campo di calcio. Che bello, che meraviglia! Ho messo i campanellini, che sono rossi come il cornetto, rossi come il cornetto, rossi come il cornetto, rossa come la lampanina, rossa come l'anellino! Oh! Se l'ipotefosi del sentimento personale, prostergando i prolegomi della subcoscienza, fosse capace di reintegrare il proprio suddivismo alla genesi delle concrinenze, allora io rappresenterei l'autofrasi della sintomatica contemporanea, che non sarebbe alta che la trasmidificazione dell'autofrasi. Dato! 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 Dato!